Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. Mina 11 in direzione Pisa a code tra Firenze Ovest e Prato Est. Un chilometro di coda tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. Per le statali sulla Trebbis Tiberina a seguito del sequestro preventivo del viadotto Puleto nel comune di Pieve Santo Stefano chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Canili e Val Savignone. L'elenco dei percorsi alternativi è disponibile sui nostri canali social. Per la viabilità cittadina a Firenze a causa di una perdita d'acqua stasera dalle 20 chiusa almeno fino a domattina a Via dell'Agnolo nel tratto tra Viale Giovine Italia e Via di Santa Verdiana. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!